Salve a tutti, quello che vi voglio mostrare oggi è come creare un documento di testo con un semplice programmino che si può scaricare da Apple Store nel caso voi stiate usando un dispositivo della Apple e in questo caso io sto usando un iPad, il programma che vi consiglio perché è il più facile si può reperire anche sui computer o sui sistemi Android è Google Documenti che nel caso di Apple Store il nome è Google Docs lo trovate qui in alto sulla destra, ecco qui è questo, questa è l'icona con il rettangolino blu con le strisce bianche, il nome appunto è Google Docs nell'attimo in cui lo scarichiamo ora lo vado ad aprire, mi viene aperto Google Documenti, qui ritrovo un po' tutti i file che sono stati salvati questi file li trovo nello spazio di Google Drive, naturalmente per utilizzarlo è necessario avere un account Gmail e nell'attimo in cui io voglio utilizzarlo per creare un documento nuovo, in basso sulla destra notate c'è il tasto più, cliccando in basso sulla destra posso decidere se prendere un documento da un modello oppure realizzare un nuovo documento, gli posso subito cambiare il nome, in questo caso gli metto prova documento e creo il file qui vedo gli strumenti base per editare un testo io scrivo una singola cosa, nell'attimo in cui ho completato il testo potrei cambiare il carattere e aggiungere il grassetto, il colore o altro in alto con il più posso aggiungere delle immagini o altri elementi utili al mio testo se io ho completato il mio testo e lo voglio esportare in un formato più comune, esempio il formato doc può essere modificato anche da altri mi basta andare sui puntini, tre puntini in alto sulla destra, schiacciandoli ho la voce condividi ed esporta, cliccando su condividi ed esporta io ho direttamente l'icona salva come word.docs lo seleziono e il file prova documento.docs viene salvato sempre nel vostro drive infatti se io torno indietro troverò ben due file che hanno lo stesso nome ma il primo in questo caso possiede l'icona con la W il secondo invece possiede l'icona tipica di Google documenti questo file lo posso sempre inviare e allegare in un messaggio se lo voglio inviare a qualcun altro